In segno di solidarietà con il ristoratore di Santa Croce che si è tolto la vita nel suo locale a Firenze, l'Associazione Ristoratori Toscani organizza per il 31 agosto un sit-in intitolato Abbandonati dalle istituzioni. Il gruppo, a cui aderiscono 1.000 imprenditori a Firenze e 15.000 in Toscana, annuncia che l'evento si terrà davanti alla sede della regione in Piazza Duomo lunedì prossimo alle ore 10. L'iniziativa, spiega un comunicato, è stata organizzata per ricordare il collega scomparso e per denunciare l'insufficienza ed aiuti per il settore della ristorazione. Ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni, spiega il portavoce di Ristoratori Toscani. Da mesi denunciamo le difficoltà che ci ritroviamo a vivere tutti quotidianamente, le difficoltà ad andare avanti in queste condizioni. Fino ad ora nessuno ci ha ascoltati e nessuno ha fatto niente. Intanto, per testimoniare la vicinanza della categoria e della città alla famiglia del ristoratore, la Conf Commercio di Firenze ha aperto una sottoscrizione per offrire una borsa di studio ai due giovanissimi figli che potranno così contare su un fondo sicuro per la propria istruzione. Il primo versamento sul conto corrente aperto per la sottoscrizione è stato quello della Fipe, Conf Commercio, la Federazione Nazionale dei Pubblici Esercizi, che ha voluto subito aderire all'iniziativa donando 5.000 euro. Chiunque imprenditore o privato cittadino potrà partecipare alla raccolta.